Buonasera dalla redazione, consueto appuntamento con le notizie del nostro TG Centro. Iniziamo con una fotonotizia molesta minore, anziano denunciato è accaduto a Castel del Piano, località sud ovest di Perugia. L'uomo residente del capoluogo Umbro, a 86 anni, era già noto alle forze dell'ordine. Nella sala di attesa di una stazione ha avvicinato un diciassettenne e con futili pretesti lo ha palpeggiato. Fin quando all'arrivo del treno il ragazzo è riuscito ad allontanarsi, raccontando poi l'accaduto. Grazie alle immagini i carabinieri hanno potuto identificare l'autore della violenza e lo hanno denunciato. Si trova rinchiuso nel carcere di Perugia il 24enne, spacciatore in nazionalità albanese, al quale i carabinieri di città di Castello hanno scoperto 3,5 kg di cocaina nascosta in un bosco nella zona di Uppiano. Il giovane è residente a Sansepolcro, ma domiciliato nel capoluogo Tifernate. In una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri 50 g di cocaina e materiale utile al confezionamento della droga. A Promano, lungo la E45, sabato notte spettacolare di operazione di rimozione del cavalcavia, che era stato danneggiato da un mezzo che è passato, ma era fuori sagoma a gennaio. Ora è stato rimosso, sarà sostituito da un nuovo ponte in costruzione. Ma siamo andati a vedere, vediamo il servizio. È stato completamente rimosso il cavalcavia all'altezza di Promano. Le operazioni per la demolizione del ponte si sono svolte sabato notte con l'E45, chiusa nel tratto interessato dalle ore 21 del 1 aprile fino all'alba di domenica 2 aprile, in entrambe le direzioni tra le uscite di Umberti, De Promano e Montone, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Il viadotto era stato danneggiato da un mezzo pesante che era transitato con il braccio dell'escavatore fuori sagoma e nell'impatto aveva compromesso una trave e la stabilità della struttura, tanto che Anas aveva montato sin da subito due sostegni speciali. Lo smontaggio di notte è stata un'operazione spettacolare che ha visto impegnate alcune squadre di tecnici e operai con una maxigru per il sollevamento. Le operazioni di ricollocazione del cavalcavia verranno poi completate in un secondo momento. Il nuovo ponte in acciaio è stato progettato ed è in fase di ultimazione. Ancora incerte le tempistiche di montaggio che dovrebbero cominciare entro l'estate. Intanto il traffico e le uscite di Promano sono state riaperte, nonostante quel ponte che per decenni ha sovrastato la zona e consentiva il collegamento interno, non ci sia più. Ancora una serie di furti in abitazioni nel comune di Arezzo, questa volta ad alcune villette nella zona del campo sportivo di Pieve a Maiano. I malviventi hanno approfittato della senza dei proprietari e sono entrati nelle abitazioni rubando oggetti. Sembra che ladri fossero almeno tre. Il modo superandi fa pensare che si tratti degli stessi personaggi, dei furti commessi la settimana scorsa a Chiani e Indicatore. I carabinieri adesso stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per gli individuali responsabili. Parliamo di Pasqua, Toscana verso il sold out, città piene, ombrelloni e spiaggia. Vediamo. Tra città d'arte, mare e campagna, Pasqua e Pasquetta faranno registrare un gran numero di prenotazioni nelle strutture della Toscana. I ristoranti lungo la costa sono pieni di camere libere e si riesce a trovare qualcosa con fortuna in pochi agriturismi, strutture di campagna o in hotel che hanno avuto una disdetta dell'ultimo minuto. Alberghi con boom di prenotazioni a Firenze, Siena, Lucca, Arezzo. Si parla di centinaia di migliaia di persone in movimento e primissimi dati parlano di 5-600 mila pernottamenti nella nostra regione. Il 67% degli operatori prevede un consolidamento della ripresa nell'estate, commenta il governatore Eugenio Gianni. Sarà una vera Pasqua di festa per il turismo che riempirà bar e ristoranti, fa sapere Aldo Curzano, presidente di Confcommercio Toscana. La Toscana è tornata a pieno titolo dunque, meta prescelta alle turisti stranieri, mentre i flussi interni si stabilizzano, i pernottamenti degli stranieri tornano a un livello alto e apprezzabile. Città d'arte e località di campagna trascinano le richieste delle agenzie di viaggio. Si cerca la bellezza, manca il contatto con la natura e il relax, bene anche la montagna e il turismo termale. La Toscana è una regione molto ambita dagli stranieri spicca Firenze, che è diventata la quarta città più ricercata dai viaggiatori spagnoli, la quinta dai francesi e dai portoghesi, la settima dai britannici e la decima dai tedeschi. Anche Pisa è tra le città più ricercate, nettamente maggioritarie la quota di turisti provenienti dagli Stati Uniti. Si apre domani, martedì, la settimana santa di Castiglione Fiorentino, con le processioni nel centro storico e volata di sabato, in collegiata. Si respira il clima di festa a Castiglione Fiorentino, alla vigilia della prima processione di questa settimana santa. Festa senza dubbio religiosa e anche di popolo, un rito collettivo molto amato dai castiglionesi e apprezzato anche dai turisti. Tre le compagnie che animeranno le tre processioni. Il martedì santo tocca la compagnia di Sant'Antonio, vestita di bianco, con la statua di Gesù nell'orto degli ulivi, con la grande novità della copia appena presentata. Il mercoledì sarà poi la volta della confraternita di misericordia, con le cappe nere e la statua di Gesù legato alla colonna. Anche in questo caso in processione verrà portata la copia per preservare l'originale. Infine, il venerdì toccherà la compagnia del Gesù con le cappe blu e le due statue, il Cristo morto e la Madonna addolorata, portata dalle piedonne. Molto suggestiva il sabato santo la volata durante la messa di mezzanotte, quando al Gloria si aprirà il portone della collegiata e la statua del Cristo risorto entrerà portata di corsa fino all'altare maggiore. Cristo risorto che verrà poi benedetto a Pasquetta, al termine della Santa Messa. Dopo lo stop del Covid, lo scorso anno c'è stata grande partecipazione in tutte le serate e l'appello vale anche per questo 2023. Andiamo a Terra Nuova Bracciolini, dove il gruppo Policromo Rinascimentale Raffigurante la Madonna con Bambino e Santi è tornato nella chiesa di San Nicolo a Ganghereto, nel centro di Terra Nuova Bracciolini. Un restauro complesso che ha richiesto particolari attenzioni. È tornato nella chiesa di San Nicolo a Ganghereto, a Terra Nuova, il gruppo rinascimentale in tracotta Policroma raffigurante la Madonna con Bambino tra i Santi Nicola di Bari e Pietro. I lavori sono iniziati nel 2017 grazie all'impegno dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, della Soprintendenza Competente del Comune di Terra Nuova, della Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze e di Privati. Il restauro non ha riguardato solo l'opera ma anche la struttura della chiesa. Ci siamo resi conto che le statue di terracotta erano completamente impregnate di umidità quindi è stato necessario risanare il muro su cui poggiano. Poi è stato molto complesso il lavoro di restauro sulle tre opere perché la terracotta si sfarinava proprio, non stava più in piedi tant'è che il San Pietro è stato preso proprio per i capelli possiamo dire perché stava proprio crollando ed è stato recuperato in tempo. L'opera attribuita ad Agnolo Di Polo, formatosi alla Scuola del Verrocchio, è stata realizzata tra la fine del 400 e inizi del 500. Le tecniche di restauro sono state molto accurate e tecnologicamente avanzate. L'opificio che lavora magari su capolavori notissimi, i capolavori del Rinascimento italiano però applica non solo le stesse cure ma la stessa metodologia e gli accorgimenti tecnici più all'avanguardia per questo tipo di opere che molto spesso sono difficilissime da restaurare. Grande soddisfazione da parte dell'associazione Pro Artibus che si è fortemente impegnata per il restauro dell'opera. Finalmente siamo arrivati a questo momento che abbiamo aspettato e per il quale abbiamo lavorato veramente tanto. È stato un lavoro molto impegnativo che ha visto e coinvolto anche tante persone, tanti enti. Domani alle 17.30 nella sala civica di Camucia c'è la presentazione del libro sul Colle più alto. Il volume è stato scritto dall'onorevole Valdospini, ricorderete come uomo politico, già ministro e sottosegretario. Sono 70 anni di storia repubblicana con una riflessione sulle cause dell'antipolitica. L'iniziativa è a cura del circolo Fratelli Rosselli. La storia della legge Basaglia è iniziata anche con Carla Cerati, fotografa e scrittrice, che con una mostra ha dato il via ai festeggiamenti dei 65 anni della FIAF a Bibbiena, riconosciuta dalla regione toscana, città della fotografia. 65 anni di FIAF, qui naturalmente a Bibbiena, in questo centro della fotografia. Le scritture dello sguardo, Carla Cerati in mostra. Questa mostra è la prima dell'anno e di un anno veramente speciale per la FIAF, perché è l'anno di 75 anni. Abbiamo scelto Carla Cerati, chiaramente è un'autrice fondamentale della storia della fotografia italiana, perché anche lei ha comunque una nascita, una provenienza che viene dal mondo delle appassionate di fotografia, dei circoli fotografici, che insieme a Gianni Berengo Gardin fanno un lavoro che si intutilerà a morire di classe, che è stato poi fondamentale per sostenere Basaglia per tutte le lotte e per poi arrivare alla definizione della legge 180, che è stata la legge che ha chiuso i manicomi, una legge fondamentale per la società italiana. Si è dedicata alla fotografia perché voleva uscire di casa, le stava molto stretta tutta questa condizione di moglie, di madre, soltanto ero una ribelle. Curiosità o voglia di guardare verso il sociale, verso le problematiche del sociale? Sicuramente verso il sociale, che lei ha vissuto in prima persona, fotografando le manifestazioni, scendendo in strada, facendosi caricare dalla polizia, aveva già 40 anni, insomma, quindi non era una bambina, aveva già due figli, e il desiderio di approcciarsi veramente ai problemi della gente. E quest'anno, con una novità importante, qualificati proprio a livello regionale come la città della fotografia della Toscana, è un orgoglio ulteriore che certamente ci dà ancora più forza, ancora più energia per andare avanti in tanti suoi. Un incontro per parlare di disturbi alimentari, la cui età di insorgenza si sta abbassando, e questo con lo scopo di aiutare chi ne soffre e le loro famiglie. È uno sportello di ascolto che aprirà anche a Gubbio. Una persona sta male, anche se non lo vediamo, ma io sono Aurora, nonostante quello che ha sofferto. Questo, il senso più profondo dell'incontro dal titolo Laboratorio Lilla, tenutosi presso l'ex refettorio della Biblioteca Spereliana di Gubbio, per conoscere e prevenire i disturbi alimentari, insieme a chi li ha vissuti e sta aiutando altri a superarli. Oltre all'assessore Simona Minelli, alla presentatrice della serata ed autrice del libro trasparente Giulia Nardi, e alla biologa e nutrizionista Sara Boltreghini, presente anche Maria Grazia Giannini, mamma di due ragazze che oggi stanno finalmente bene, e presidente dell'associazione Il Bucaneve. Ospite anche Aurora Caporossi, presidente di Animenta, Realtà che in tutto il territorio nazionale si occupa di prevenire, sensibilizzare e supportare nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare. Ancora vediamo che i disturbi alimentari non sono percepiti come una malattia, come una patologia psichiatrica, cosa che in realtà sono. Mancano ancora quelle che sono delle strutture adeguate. Serve un'equipe di professionisti multidisciplinari, capaci di supportare le persone di qualsiasi età e le loro famiglie. Un punto d'ascolto nascerà proprio a Gubbio nei prossimi mesi. È fondamentale dare concretezza, è fondamentale creare luoghi dove le persone possano raccontare, possano chiedere aiuto, ma soprattutto trovarle. Un incontro che ha toccato e coinvolto le sensibilità di tutti e che ha reso chiaro quanto essere visti sia ciò di cui c'è più bisogno per ritrovare la luce. I disturbi alimentari è possibile guarire, anche se magari può non essere così, nel 100% dei casi nessuno deve mai dire una persona che non può guarire. Rivivere la storia dei super tramp nei teatri dell'Umbria e della Toscana, uno dei gruppi più amati della storica musica rock internazionale, rivive grazie al gruppo musicale di cover Solo Tramp Project, ideato da Leonardo Fugazza. Le vicende della band britannica sono raccontate in chiave molto originale attraverso vari spettacoli. Il primo è in programma il 6 maggio a Trevi, la tappa della Toscana è il 27 maggio a Chianciano. Il ricavato sarà devoluto a varie associazioni di beneficenza e volontariato. Questa era l'ultima notizia di questo appuntamento informativo TgCentro, grazie della vostra attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente.